... Fermo, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo... Oddio! Che cosa c'è di sbagliato in me? Che cosa ho fatto di male? Ero così ossessionato dall'ucciderlo Ok, stiamo riflettendo penso sull'assassinio che abbiamo fatto alla torre Era un umano, un essere umano Questo... Questo non ero io Che cosa mi sta succedendo? Oddio Non vorrei, raga Che questi siano tipo i primi sintomi del diventare zombie, sapete, no? Il segreto del professor Elm Io... Boh, non saprei Perché mi puzzava tanto quello che stava dicendo Elm Mi sembrava che stessi dicendo qualcosa di veramente sconvolgente Quindi non vorrei che tutti in realtà fossimo Diciamo, infettati E che piano piano stiamo tutti degenerando Anche noi che in realtà sembriamo normali Però comunque questa malattia qua da qualche origine deve... Cioè... Il primo zombie deve essere nato da qualcosa E quindi non lo so Ok, finalmente siamo liberi Perfetto Ma immagino di dover parlare di nuovo con Dave Maledizione, Ethan È un'ottima cosa che tu sia qui Abbiamo un problema veramente serio Cosa? When I made my tour through Golden Road City I've seen something on Route 35 Ok, perfetto C'è qualcosa nel percorso 35 Che potrebbe causare dei problemi Oh, figa Un gigantesco Venusaur infetto Raga, mi sto cagando addosso, ve lo giuro Che sta correndo a Golden Road Oddio Ecco, raga Questo coach ha capito che è un boss Quel maledetto mostro No Mi sento davvero male a chiedertelo Ma devi ucciderlo Un Venusaur Tu sei totalmente pazzo Pensaci Venusaur è un tipo erba Gli zombie là fuori Sono deboli contro il fuoco Perché a causa del loro Diciamo Non è decadenza al termine giusto A causa del loro Ehm Non so come dirlo, insomma Un tipo erba zombie Non dovrebbe essere così difficile Anche se è un Venusaur Ethan, devi ucciderlo Così potremo sopravvivere Sei sicuro che non ci siano altri modi? Assolutamente Ok, perfetto ragazzi Dobbiamo andare fuori E uccidere questo Venusaur Io ho letteralmente Una caga bestiale Fatemi vedere un attimo Come siamo concetti A livello di HP Fatemi salvare Fatemi salvare Perché altrimenti Tra l'altro ragazzi Pensavo Anzi, penso di averlo fatto Ne ho tre volendo Ma proviamo raga Proviamo senza Stavo pensando di creare Gli episodi un pochino più creepy Diciamo Interrompendo a metà Magari Quello che dico In modo da creare più suspense Magari Mi metterò a creare Un intro molto semplice Ma D'impatto Diciamo E quindi nulla Volevo un po' Ora che siamo ritornati Con questa serie Diciamo Portarla Magari a un livello Leggermente superiore Io ho paura Vi giuro Che ho una paura Matta A proseguire Non è questo qua Il percorso 35 Quale stracazzo È il percorso 35 Non ditemi che è quello giù Questa musichetta Non mi è piaciuta Per un cazzo Io Allora Fermi Fatemi prendere Dimesti Ok Sì Sui comandi Ci siamo Non è che ci sono Molti percorsi In realtà Cioè nel senso O sono questi Non è che ho molta Scelta di percorso Posso solo andare In due direzioni Quindi ora Le alternative sono due O non ho capito qualcosa O mi sono balzato Qualche dialogo Di troppo Oppure Mi sono perso Veramente qualche Qualche ragionamento Che non ho capito Quindi Aspettate Torniamo No Torniamo Dentro E vediamo un po' Di capirci qualcosa Sta registrando Sì è tutto a posto Tra l'altro ragazzi Oggi esce ancora Pokémon Crepuscolo Perché l'unica cosa Che posso materialmente Registrare In quanto Il pc mi è andato Totalmente a puttane È stato infettato Da malware Ho dovuto Reinizializzarlo Riscaricare Tutti i programmi Per registrare In extremis Ho tirato Le 9 di sera E ora questo È l'unico Che posso permettermi Di registrare E di caricare Abbastanza velocemente Ah ok Dovevo chiederglielo Waffanculo Sì sono pronto Vediamo un po' Come va Io Veramente C'ho una paura Matta ragazzi Questo qua Penso Sia veramente Il primo boss Minchia È gigantesco Cazzo È così grosso Brando Non devi affrontarlo Se non vuoi Certo che vuole Brando È un eroe Ok I will take Some cover So you can focus On the battle I wish you good luck Ok Ok perfetto Noi andiamo a nascondere Ah proprio Dei infamissimi Ma quello lì cosa Cristo Ma che è Ma che è Oh Aia Oh Sì ma raga È illegale Sta roba È illegale Spara le Ecco Lo sapevo io Ok Ok forse Forse però Ce la sto facendo Raga Non sembra così difficile A meno che Questo non si prenda malissimo A un certo punto Minchia Mi ha preso in pieno Ce l'ho una pozione Qualcosa Dimmi di sì Ho una bacca Cosa ha fatto No 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 Torna dentro Ok no Cazzo 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 sto sbagliando Ok fermi Fermi Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Oddio Cosa ha fatto Non lo voglio sapere Ok Ok Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Ce la stiamo No 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 Scappa Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Muori Eh non è ancora morto però Spara la tua stronzata Ok Ce l'ho fatta Mi son cagato sotto Quando ha cominciato a urlare Ok penso di averlo sconfitto Questo qua Era un boss Oddio È conciato decisamente male Finalmente è morto Quel cadavere sta bloccando L'entrata nord di Golden Road City Potrebbe avere dei vantaggi Ok perfetto Quindi mo immagino di dover tornare Da tipo ok Adesso ci conviene effettivamente curarci Dall'infermiera Ok perfetto È stato abbastanza inquietante Ma non è stato così difficile Come temevo sinceramente Chi stracazzo Chi siete Perché è arrivata più gente del solito Oh ciao Tu sei l'allenatore Paco Netan Vero Sì esatto Dave ti avrà sicuramente parlato di me Vero Ah ok Questi Questi qua sono i nostri sopravvissuti Cioè sono nuovi sopravvissuti Ehm Come ha detto Mi ha portato Ah mi ha detto che hai ucciso Quei Quei Diciamo Tizi là fuori Io sono Klaus E sì Se te lo stai chiedendo Non ho letto quello che c'era scritto Vabbè Quindi vieni dalla Germania No sono nato qui Ma i miei parenti sono tedeschi Ehm Ero solito fare il poliziotto Prima che questo Questa malattia si Diffondesse Ero nella Non vorrei leggere male Ma penso sia Doper31 O Dope31 Ero nel dipartimento Dope31 Ehm Questo è abbastanza Esplicativo Insomma Lo notavo dall'uniforme Dall'uniforme Oddio Sì Vivevo Ho vissuto a Golden Road City Prima che l'infezione iniziasse Ehm Assurdo come le cose siano cambiate Ok va bene Però Ehm Ok Tutti occupavi di affrontare il team Rocket Nessuno sa perché Queste persone si sono Disperse per questa città Va bene Ehm Perfetto Va bene Le persone si sono accorte Che sarebbero diventate infette Dopo essere state morse Ehm Dopo tutto ciò Ehm Tutto è crollato Ehm Le persone hanno iniziato a vivere Per se stesse Ho visto Così Così tante cose terribili Ehm Degli zombie che mangiavano altri umani Cose che nessuno avrebbe voluto vedere Cose che nessuno dovrebbe aver visto Ehm Penso che io stia parlando troppo Ehm In qualità di poliziotto esperto Farò di tutto per aiutarti Se avessi solo la mia pistola Ok Tu hai una pistola Fermi Parliamo con Dave prima Quindi Ethan Sei riuscito a batterlo? Sì Ce l'abbiamo fatta Il cadavere di Venus Aurora È disteso davanti All'entrata Nord Il cadavere sta bloccando L'uscita Grande Questa sembra un'ottima cosa I Ok Devo seccarne un altro Mi sa We all have to thank you Ok Ti dobbiamo tutti ringraziare Per quello che stai facendo per noi Hey Hai visto Altri sopravvissuti? Qualcuno là fuori Qualcuno Ah Quelli che sono entrati Quelli che sono arrivati adesso Ehm Quelli che sono arrivati adesso Forse potrebbero aiutarti in qualche modo Ok Con lui ho già parlato Non è che mi ha aiutato In Chissà come Questo qua invece Mi sembra interessante Tant'è un Vulpix Oh ciao Ciao Sei nuovo vero? Non ti ho ancora visto prima Sì è vero Permettimi di introdurmi E di Non si dice Di presentarmi Sono Albert E Dave mi ha portato qui Mi ha salvato la mia vita là fuori E tu sei certamente Ethan vero? Dave mi ha parlato molto di te Ehm Anche Marta Anche Marta Ha parlato di te E del tuo Pokémon coraggioso Penso sia Marta Almeno Laga Sì Ehm Non avere una falsa modestia Anche tu hai un Pokémon Un Vulpix Deve essere veramente forte Potresti lavorare con noi Non lo penso Non la penso così Ethan Ho insegnato Non ho mai insegnato al mio Vulpix Qualche attacco Gli ho lasciato solo Cioè Gli ho permesso solo di partecipare Alle gare di bellezza Sfortunatamente è così debole Se avessi saputo Quello che sarebbe arrivato Probabilmente l'avrei allenato Oh cielo Ehm Ethan Prima che tu vada C'è qualcosa che io ho per te Ehm Vieni a trovarmi Se Sì Posso Cioè Mi ha letto di trovarlo Quando avevo tempo Cioè adesso ho tempo Ehm Ok Hai dimenticato qualcosa Hai dimenticato il radio modulo a casa Hai un po' che gare vero Sì Ma Non è Non è utilizzabile in sostanza Ci sono Non ci sono sopravvissuti alla torre radio Ehm Se riuscissimo a installare il modulo radio Potremmo ottenere più informazioni sull'infezione Ehm Forse i militari O il centro di controllo della malattia Potrebbe mandare qualcuno Potrebbe Dire qualcosa Potrebbe inviare qualcosa su questa malattia Forse c'è un campo di altri sopravvissuti O addirittura un vaccino Questo è ciò che spero È un'opportunità che potremmo cogliere Eccellente Mi stavo chiedendo anche che Sì Ehm Hai bisogno di questo Ok Casa Cioè Chiave della casa Ok La casa sua è vicino al bike shop Ho creato Una sorta di sistema di sicurezza Ho creato quel sistema per i ladri Per confonderli e tenerli lontano dalla mia roba Devi sapere Che sono un appassionato di Ehm Come si dice Di puzzle in sostanza Avete presente quelli delle palestre? Ecco Ehm Penso che tu sia abbastanza intelligente per risolverlo Perfetto Capisco Ehm Otterrò questo radio module Invece tu Adesso mi dici qualcosa di nuovo Ehi tu Ehm Sì esatto infatti Gli dici qualcosa di nuovo Ehm Potresti darmi una mano E eliminare qualcuno di questi Tipi Ehm Sarebbe fantastico Prendo può aiutarci Ehm Ok perfetto Devo cercare forse la sua pistola Ehm Che però non so dove sia Effettivamente mi ricordo molto Nightmare sta cosa della pistola Ehm Ehm Ero uno di quei sopravvissuti che era al Game Corner Ehm Ma sono passati un po' di giorni Penso che non ci sia più nessuno là dentro vivo Quando me ne sono accorto Quando Mi sono accorto che l'infezione Stava Si stava spargendo anche al Game Corner Ehm Ehm Me ne sono subito Sono subito fuggito da lì Ho preso le chiavi Ok perfetto Penso che Ora ci dia anche le chiavi del Game Corner Per entrare là dentro E' stato orribile Quei Quelle urla E E Non riuscivo a dormire Io Io sono così dispiaciuto per quelle persone Ehm Commentiamo tutti degli errori in un mondo come questo Frasi filosofiche a Google raga Io Io Lo so Potrei averli salvati forse Mi dispiace Mi dispiace Sto Sto Ehm Come si dice in italiano Sto Ehm Ehm Oddio Divagando Ecco sto divagando Ehm Ok perfetto Ok la tua pistola è al Game Corner E tu immagino che mi debba dare le chiavi Ok perfetto Ora non so sinceramente dove andare Direi Prima visto che l'abbiamo ottenuta Per prima giustamente Entriamo Ehm Nella casa della quale abbiamo la chiave Ora io suppongo che usciti di qua Ci saranno altri zombie Ma così a tatto Guardate Mi son cagato sotto Appena ho visto quel Venusaur gigante Ok Nonostante l'avessi già ammazzato La cosa è molto grave Allora Casa 2 vicino al bike shop Io raga C'ho una cagarella Di quelle che veramente Ok Immagino sia questa Porta sbloccata Merda Buona fortuna Ok Perfetto Sono i puzzle Quelli classici Con forza Devo cercare di arrivare là Alla Alla radio Forse Sembra che queste rocce Non siano reali Penso di poterle spostare Ok Perfetto Ok L'hai in fondo Io mi auguro che non ci sia Nessuna cosa strana Tipo Allora Proviamo A Studiare un attimo La situa Se io faccio così Poi faccio così Poi faccio così Poi sposto questo di qua Questo lo sposto qui Questo qui Questo qui Questo lo sposto qui Sono un coglione Ho sbagliato tutto Mi sa Ok Entriamo Usciamo Sperando che il puzzle Si rifaccia Ho sbagliato tutto Ok Sì Perfetto E' Già un bordello Sta roba Sul serio Cioè Veramente Sto già Sclerando duro Madonna Non sono capace Raga A fare ste cose Ma minchia Allora Fermi No Devo Devo cercare Di studiare bene La situazione Vedere di capirci qualcosa Allora L'idea sarebbe Arrivare lì E spostare qualcosa Per farlo Io devo arrivare Là sotto Per arrivare Là sotto Io dovrei Passare Tipo da qua Allora Ok Forse Forse Ho una vaga idea Ok Sì Ce l'ho fatta In teoria Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Vediamo un po' Cosa abbiamo ottenuto Suppongo sia Questo radio Modul Ok Perfetto Torniamo indietro dal tipo E vediamo la ricompensa Che ci darà Speriamo che sia qualcosa di buono Perché altrimenti Ma tra l'altro noi con TPS Abbiamo il nostro Pokemon Eh Forse raga sarebbe Ma poi La poziona Eh sì Vaffanculo La poziona La poziona Alla fine Sì l'ho presa Che poi era una bacca Ora che ci penso Ok Torniamo indietro dal tipo Sì però sto sbagliando Strado Vediamo che ricompensa Da darci Per il radio Modulo Comunque vediamo Che cose riusciremo a fare Con questo nuovo oggetto Ottenuto Perfetto Pensavo peggio Sinceramente Pensavo di trovarmi Qualche zombie strano Invece è andata Tutto per il meglio Oggi sono dislessico Raga Capitemi E anche notte L'hai trovato Fantastico Vediamo se qualcuno Sta trasmettendo qualcosa Su questa malattia Vediamo un po' Come andrà Schermo nero Non mi piace Nulla Brutte notizie Niente Merda Ci deve essere Qualche Qualche Militare Che sta facendo Qualcosa Contro L'infezione Non sembrerebbe A quanto pare Io contavo Sul governo Ma sembra che Ci stiano lasciando Qua morire E ora E ora Questo in sostanza Nessun poliziotto Nessun militare Nessun centro Di controllo Della malattia Nulla Nulla Stiamo da soli Mi dispiace Averti mandato La fuori Ma il radio Modul E' inutile Se nessuno Trasmette qualcosa Ma ha integrato Un music player In italiano Un mp3 Insomma Si direi di si Non so cosa fare Con questo C'è tutto questo Per un music player In un apocalisse zombie Abbiamo fatto Una roba Per ottenere Un music player Per ora C'è solo una canzone Installata A Golden Root Ci sono alcune canzoni Che puoi collezionare Trovale E verranno inserite Ma davvero Mi stai pegando Per il culo Allora Vediamo un po' Che cosa c'è No Vaffanculo Qua mi sparano Il copyright Raga Questo è da copyright Fisso Però mi piaceva Come canzone Poi me la vado A cercare Non vorrei che fossero Delle canzoni Effettivamente inserite Sarebbe una gran figata A parte per il copyright Infatti io Raga per sicurezza Non l'ho mai notato Sto codo Ah Un'altra canzone Raga poi me la ascolto Off camera Perché io ho davvero Una caga pazzesca Del copyright Infatti penso di aver Mutato quella parte Perché Altrimenti veramente Però raga Sono effettivamente Curioso di cercarle Quindi direi che In questo episodio Le vado a cercare in giro Cioè Finiamo l'episodio Andandole a cercare Queste canzoni E poi nel prossimo Andremo a vedere Cioè che poi Non vi accorgerete neanche A un certo punto Si ci sa Eccola qua A un certo punto Ci sarà lo schermo Nero del gioco Che si interromperà Il video E passerò Al terzo No cosa siamo Terzo Mica tanto Questo dovrebbe essere Il quinto Passeremo al sesto Episodio Perché ho deciso Di farli in maniera Molto più creepy Comunque Vediamo un po' Che altre canzoni Possiamo tenere in giro Ce ne sarà sicuramente Qualcuna Alla radio tower Ma tipo Fisso Adesso Esploro un attimino E andiamo a cercarle Allora Qua non c'è nulla di nulla Qui manco Che poi Volevo completarlo bene Sto gioco Per farvelo vedere tutto Quindi Ci sta anche Fare queste cose qua Eccola lì Nascosta Alla fine Della torre Proprio Si sono sprecati Che poi è giusto Effettivamente Perché forse Nello studio di registrazione Dove c'era il DJ Timmy Se non ricordo male Quindi Ha anche senso Che ci sia Una canzone No serio Poi dopo me le ascolto Off screen Raga vi faccio sapere Che Che diavolo sono Se Se sono canzoni Belle o brutte Magari vi metto i titoli In descrizione Nel prossimo episodio Già che ci sono Me le ascolto Prima di registrare Il prossimo episodio Per chi se lo stasse chiedendo Quindi tipo dopo In chat con Luke E Tia Probabile Allora Perfetto Usciamo da qua E Non so sinceramente Ora dove cercare Altre canzoni Probabilmente ce n'è Qualcuna Al Al casino Però sinceramente In questo momento Me la risparmierei Vediamo da questa parte In questa casa Magari ne è apparsa qualcuna No niente da fare Però ho come l'impressione Che nel bike shop Ci siano Ma non so proprio Il motivo No invece no Sono stato trollato Malamente Vediamo se a sud C'è qualcosa Altrimenti ragazzi Direi che Che le abbiamo trovate Tutte in sostanza A golden road city Oh guarda la stronza È però Questa roba Questa roba Qua è chiusa Sembra Ho sentito una cosa Che non mi è piaciuta Per nulla Ve lo dico io Allora ci sono ancora Do tenere questi strumenti Qua raga E non abbiamo Un pokemon per surf Per entrare lì O tenere quello strumento lì Qua sotto Questo percorso qua Mi puzza tanto Ragazzi Siamo pronti Per entrare Qua dentro E quindi Andiamo